Consolazione, perdono e risurrezione. Sono state queste le parole pronunciate ieri pomeriggio dal vicario foraneo Don Giuseppe Argento durante l'omelia dei funerali di Marco Vinci. 22 anni, il ragazzo ucciso sabato notte in Piazza Dante, vicino alla chiesa di San Domenico, da Daniele Lodato, 34 anni, attualmente in carcere con l'accusa di omicidio aggravato da futili motivi. Oggi, ha aggiunto Don Giuseppe, dobbiamo pregare e stare in silenzio, consapevoli che tutti noi avremmo potuto fare di più, ma non ci siamo riusciti. Forse insieme avremmo potuto evitare tutta questa tragedia. Purtroppo, ha concluso il sacerdote, non ci rimane altro che rimboccarci le maniche e lavorare tutti insieme, chiesa, istituzioni, associazioni e forze dell'ordine, affinché disgrazie come quella avvenuta sabato notte non abbiano più a ripetersi. Poi Don Giuseppe ha avuto parole di conforto per i genitori di Marco, per il fratello, per i tanti amici che ieri hanno affollato la chiesa di San Calogero, diventata improvvisamente troppo piccola a contenere tutta quella gente che ha voluto testimoniare la propria vicinanza ai familiari Vinci. Sono sicura, ha detto Don Giuseppe, che Marco Incello, vicino al nostro signore, ieri a Canicattì, è giunto il prefetto di Agrigento, Nicola Di Omede, che ha preso parte alla funzione religiosa, poi si è intrattenuto con i familiari di Marco Vinci e con il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, che negli ultimi giorni ha sollecitato la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dopo i fatti che sono avvenuti in città. Presenti i vertici cittadini di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Un lungo applauso accolto il ferretro di Marco all'arrivo in chiesa e all'uscita. In cielo sono stati fatti volare palloncini bianchi e azzurri. Marco ucciso da un balordo soltanto per cercare di difendere un'amica che faceva parte della sua comitiva. Sono le parole del procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha dichiarato Daniele Lodato è indagato per omicidio premeditato, aggravato dai futili motivi. Grazie a tutti.